Buongiorno a tutti e buon anno scolastico. Riprendiamo oggi, 2 settembre, la nostra nuova serie di video periodici a commento dei fatti di politica scolastica. Oggi ovviamente parliamo di come è iniziato l'anno scolastico. L'avvio non è stato facile, come peraltro accade ormai da tanti anni a questa parte, ma forse neppure così traumatico come molti pensavano. Nella giornata di mercoledì 1 settembre l'interesse di tutti era concentrato sulla questione dei controlli ai green pass del personale e si temevano difficoltà diffuse e generalizzate, ma per fortuna così non è stato. Certo non tutto è filato liscio. In qualche scuola alcuni docenti e alcuni collaboratori scolastici sono stati rimandati a casa perché non in regola con la certificazione, ma si è trattato tutto sommato di casi sporadici, grazie anche al fatto che per ora gran parte delle attività collegiali si stanno svolgendo a distanza e non in presenza. E c'è chi osserva che più in generale la protesta è piuttosto blanda, dal momento che l'annunciato blocco di treni e stazioni in programma proprio per la giornata di mercoledì si è risolto in un flop clamoroso. Stando alle cronache in alcune stazioni i giornalisti accorsi per documentare l'evento erano persino in numero superiore ai manifestanti. Va invece segnalato un fatto molto importante. Il fronte sindacale appare sempre meno compatto, tanto che la segretaria generale di CISL Scuola Maddalena Gissi ha persino preso le distanze da iniziative di altre organizzazioni a partire dalla proclamazione dello sciopero nel primo giorno di lezione fatto dall'ANIEF. Ma in questo momento il punto che più di altri sta dividendo le organizzazioni sindacali sembra essere di natura più ideologica che è contrattuale. Secondo Gissi non si può definire battaglia di libertà quella di chi si oppone alla vaccinazione rivendicando al riguardo un proprio diritto soggettivo e assoluto di scelta, non esitando a paragonare le regole stabilite per legge e le sanzioni in caso di inosservanza ai provvedimenti liberticidi del ventennio. Dall'altra parte c'è invece chi, come la Will Scuola, rivendica una libertà di scelta quasi incondizionata e sta proponendo una sorta di vademecum per difendersi da regole considerate di dubbia legittimità. Al personale che dovesse sottoporsi al tampone per ottenere la certificazione verde, Will Scuola suggerisce anche di presentare alla scuola la richiesta di rimborso delle spese sostenute. E proprio il tema del pagamento dei tamponi è stato oggetto di una lunga complessa trattativa fra i soggetti che stanno discutendo il protocollo di sicurezza per i servizi 0-6 anni, e cioè ministero, sindacati, enti locali. Tanto che la firma del protocollo, attesa per il pomeriggio del 1 settembre, è stata rinviata ad una riunione adatta da destinarsi. I problemi più seri però arriveranno nei prossimi giorni, quando prenderanno avvio le lezioni e quando quindi i dirigenti dovranno iniziare anche a nominare il personale supplente, per il quale non è ancora ben chiaro come ci si dovrà comportare proprio in materia di certificazione verde, nonostante i chiarimenti, per la verità non del tutto sufficienti, forniti dal Ministero ai dirigenti scolastici nel corso della conferenza di servizio del 31 di agosto. Questo è ovviamente il tema del momento, il tema del giorno, quindi noi continueremo a tenervi informati su questo. Voi continuate a seguirci sia su questo canale ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci le vostre osservazioni, i vostri commenti, noi ne daremo conto come sempre. Grazie. 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 Grazie.